Scende dal bus dopo la scuola e muore a 15 anni investita. È morta all'ospedale maggiore di Parma la ragazza di 15 anni investita da un'auto guidata da una 26enne a San Benedetto Po nel Mantovano, originaria di Novalba di Cardinale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane martedì era appena scesa dall'autobus e stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto che era sbalzata per quasi 20 metri. Le condizioni della giovane Giorgia Coraini sono apparse subito gravissime, tanto da essere trasportata in elisoccorso a Parma. La 15enne è stata rianimata sul posto ma il flebile battito è cessato poco dopo l'arrivo in ospedale. La donna alla guida dell'auto che l'ha investita è risultata negativa all'alcol test. Tutta la comunità di Novalba di Cardinale, scossa per il terribile incidente stradale, si è stretta vicino a papà Cristian e la mamma Benedetta in questo terribile momento. A Novalba c'è la zia Nadia, madrina di Giorgia. E anche noi di Teleionio ci stringiamo al dolore che ha colpito la famiglia Coraini. Grazie. Grazie. Grazie.